come faremo come fare questo caldo infernale come faremo come fare questo caldo infernale come faremo come faremo come faremo come faremo come faremo con questo caldo infernale come faremo come faremo con questo caldo infernale come faremo Come faremo, come faremo, come faremo, dobbiamo resistere, dobbiamo resistere a questo caldo infernale, dobbiamo resistere, dobbiamo resistere a questo caldo infernale. Dobbiamo resistere, dobbiamo resistere a questo caldo infernale, dobbiamo resistere, dobbiamo resistere a questo caldo infernale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.